Fondi autoimpiego, nessuna novità dal governo, il dottor Tarateta, una misura necessaria per il rilancio. Asl di Salerno istituito il servizio telefonico per l'emergenza caldo. Teggiano questa mattina la presentazione della seconda edizione di Thanos, memorie di migrazioni tra fede e tradizioni. Teggiano tutto pronto per la seconda edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza torna lo spettacolo assalto al castello. Salernitana dal mercato arrivano Sciaudone e Schiavi, domenica in campo contro il Pisa. Buongiorno, ben ritrovati ed un nuovo appuntamento con le Uno News. A breve potrebbe essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la scadenza definitiva della misura destinata all'autoimpiego e all'auto imprenditorialità. Il governo ad ora però ancora non ha avviato azioni per il rifinanziamento, nonostante i solleciti arrivati sia da parte di esponenti di Forza Italia che del Partito Democratico. Il rapporto Svimez continua a far discutere. In un momento in cui sarebbe opportuno che il governo dia un'accelerata per cercare di avviare misure che possano essere efficaci per la ricrescita e lo sviluppo del mezzogiorno, arrivano invece notizie contrastanti che vanno in tutt'altra direzione. Il mezzogiorno in generale, così come la Campania in particolare, ha beneficiato negli anni di fondi europei destinati all'autoimpiego, che hanno favorito l'occupazione e la nascita di nuove aziende sul territorio. A beneficiare della misura soprattutto giovani e donne che risultano i più penalizzati dalla crisi del lavoro esistente. Mancano pochi giorni alla scadenza del decreto e a tutt'oggi ancora non giungono notizie in merito ad iniziative del governo che vadano verso un rifinanziamento della misura risultata particolarmente efficace in termini di lotta alla disoccupazione giovanile. Dopo la presentazione dell'ultimo rapporto Svimez, che vedeva il Sud in una situazione economica paragonabile alla Grecia e a tratti anche in una situazione peggiore, ci si attendeva una forte decisazione da parte del governo, vista anche la sollecitazione da più parti, sia dalla maggioranza PD che dai partiti di opposizione come Forza Italia. In prima linea nella battaglia per richiedere il rifinanziamento della misura, l'onorevole Mara Carfagna per Forza Italia e l'onorevole Tino Iannuzzi per il Partito Democratico. Entrambi impegnati a sollecitare il governo affinché provveda a ridare supporto economico ancora più visti i dati non confortanti evidenziati dal rapporto Svimez alla misura dell'autoimpiego. Al momento però non si intravedono notizie positive in tal senso con un silenzio assordante sul tema che lascia perplessi. Le agevolazioni concesse andavano ad intercettare direttamente le persone non occupate, sostenendole nelle iniziative imprenditoriali. Attraverso i fondi, le idee, soprattutto dei giovani, offrivano la possibilità e il giusto sostegno a chi era desideroso di aprire una propria attività, di farlo e nel contempo creare nuovi posti di lavoro. Oggi i fondi sono esauriti e non sembra vi sia in programma azioni per il rifinanziamento della misura per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità. E abbiamo raggiunto telefonicamente il dottor Valentino Tarateta che è tra i primi sostenitori dei fondi per l'autoimpiego. Il dottor Tarateta presenta anche alcuni dati che evidenziano come la misura sia stata di importante supporto contro la disoccupazione, in principal modo la disoccupazione giovanile. Noi periodicamente stiamo cercando di sensibilizzare se io agli organi di stampa che è la parte politica. Ad oggi il governo non ha preso una decisione definitiva, nonostante i dati dello Clinex dicano che la situazione nel mezzogiorno è perlomeno drammatica, soprattutto per quanto riguarda l'occupazione giovanile. Ci sono delle interrogazioni da parte sia di esponenti della maggioranza, sia da parte dell'opposizione, ma ad oggi, nonostante anche un incontro con il sottosegretario Cosi, il governo non ha deciso cosa fare. Fonti attendibili dicono che i fondi sono in esaurimento e che nei prossimi giorni dovrebbe essere pubblicato in cazzetta la sospensione della presentazione delle domande. A settembre poi il governo dovrà decidere. Bisogna tener conto che ad oggi non sono stati spesi circa 13 miliardi di fondi europei. Mi auguro che non vengano destinati a fontane o a rotonde che vanno tanto di moda, ma che vengano utilizzate anche con questa misura che è stata recentemente votata dal Parlamento europeo come una delle migliori per quanto riguarda la lotta alla disoccupazione giovanile. È stata una relazione da parte del Parlamento europeo che è pubblicata proprio sul sito del Parlamento europeo che dimostra gli effetti brillanti della legge. Quindi non si capisce perché il governo non decida di rifinanziare la legge. Noi attendiamo fiduciosi. Ad oggi non diamo risposta. Per la verità si sta interessando la questione sia l'onorevole Bergamini che l'onorevole Garfagna per quanto riguarda Forza Italia, ma se ne stanno occupando anche autorevoli esponenti della maggioranza come la siciliana Pulotta, l'onorevole Tino Iannuzzi, l'onorevole Sgambato. Il problema è che anche tutti gli altri politici campani sembra che nonostante siano stati messi a conoscenza della cosa, sembra che iniziano e non so perché o per come non si interessano vivamente alla questione, nonostante sono più volte stati sollecitati. Dobbiamo ricordarci soltanto alcuni dati. Questa legge ha determinato la nascita in 10 anni di oltre 100.000 aziende. Il tasso di sopravvivenza dopo 5 anni è superiore all'88%, ha creato occupazione diretta per circa 200.000 unità senza contare gli effetti enormi sull'indotto. Quindi di fronte a queste cifre ognuno deve prendersi la responsabilità di dire la rifinanzio o non la rifinanzio e se non la rifinanzia dovrebbe dirci il perché. E adesso spazio alla viabilità. Il presidente della provincia di Salerno Giuseppe Canfora ha incontrato ieri a Palazzo Sant'Agostino la struttura tecnica della viabilità provinciale e i sindaci dei comuni del Cilento. Alla termine dell'incontro è stato annunciato che dal 10 agosto al 7 settembre la Cilentana riaprirà dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 22 e nei weekend fino a mezzanotte quindi per tutte le 24 ore. Contestualmente la provincia chiederà al Ministero delle Infrastrutture di essere autorizzata a partire dal 7 settembre fino all'inizio dei lavori a sostituire la sorveglianza da parte delle forze dell'ordine con un sistema automatico di chiusura della strada con barra già presente sul tratto stradale. Tale misura secondo la provincia allevierà i disagi ai tanti pendolari e studenti nel periodo successivo a quello estivo. Rimaniamo in tema di estate per far fronte all'emergenza caldo annunciata a partire da domani fino al prossimo 23 agosto. L'ASL di Salerno attivato e attiverà a partire da domani 24 ore su 24 un numero di telefono per fornire assistenza e aiuto. In attesa di capire chi sarà il prossimo direttore generale dell'ASL di Salerno le ultime notizie parlano della molto probabile nomina di un commissario entro la fine della settimana e si è fatto il nome di Attilio Bianchi già manager dell'ospedale San Leonardo di Salerno perché la procedura per la nomina di un nuovo direttore sanitario è molto complessa. L'ASL di Salerno ha istituito un servizio telefonico attivo 24 ore su 24 al numero 08969 4347 per prestare in vista dell'annunciata emergenza caldo un aiuto a tutti i cittadini. Infatti le previsioni meteo prevedono a partire da domani 7 agosto e fino al 23 agosto prossimo incrementi considerevoli delle temperature superiori ai 5 gradi rispetto ai valori medi stagionali associati ad un tasso di umidità che in alcune ore della giornata potrà superare l'80 e il 90%. Tali condizioni determinano una temperatura percepita superiore a quella reale che potrebbe dare origine a situazioni di criticità soprattutto negli anziani e nelle fasce fragili della popolazione. Proprio a partire da domani 7 agosto sarà attivo il numero telefonico a cui risponderà un dirigente medico che a seconda della decodifica della richiesta potrà fornire i primi consigli utili per aumentare le condizioni di protezione dal caldo, realizzare sollecitamente un'assistenza domiciliare attraverso l'impiego di una reperibilità infermieristica, attivare un intervento di emergenza urgenza attraverso la continuità assistenziale o il servizio del 118 e attivare i servizi sociali. L'assistenza domiciliare potrà essere attivata anche dalle strutture ospedaliere, dalla continuità assistenziale e dal south previa stabilizzazione clinica del paziente al fine di mantenerne stabili le condizioni e o evitarne ricadute o complicazioni. Restiamo in tema di estate ma parliamo di vacanze. Secondo le indagini condotte da Federalberghi il numero di italiani che andrà in vacanza quest'anno è in netto aumento ma allo stesso tempo diminuiscono il numero di prenotazioni negli alberghi. Dai risultati emersi dalla ricerca condotta dalla Federalberghi gli italiani non rinunciano alle vacanze estive cercando di risparmiare scegliendo in alternative all'albergo luoghi di pernottamento meno costosi. Rispetto all'anno scorso il numero di italiani che andranno sono già in vacanza è aumentato dell'8,6%. L'81% rimarranno nella penisola mentre il 19% partirà per località estere. Il turismo in Italia porterà ad un aumento del giro d'affari del 7,7% rispetto allo scorso anno e si attesta sui 18,3 miliardi di euro. Si tratta di timidi segnali positivi ha detto il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca ma come è avvenuto anche in altre circostanze non vogliamo illuderci o crogiolarci sugli allori. L'Italia ha bisogno di investimenti cospicui nel settore di un piano robusto di ristrutturazioni e di promozione per consentire al nostro sistema di risalire rapidamente la classifica mondiale dei paesi a maggior vocazione turistica. Un numero rilevante di italiani ha scelto come meta turistica le località di mare. Le regioni piombite si confermano quelle del mezzogiorno. Sicilia 18%, Sardegna 10,4%, Puglia 10,1% e Calabria 10%. Dopo le notizie dei giorni scorsi che hanno enfatizzato dati drammatici sull'irrisoria crescita del sud, vedere che il 48% degli italiani abbia scelto per le proprie ferie estive, soprattutto queste regioni, ci rafforza, ha commentato bocca, nel convincimento che il nostro paese ha ancora tante doti turistiche da valorizzare per una crescita economica ed occupazione che vanno incentivate per diventare il volano della ripresa. Le altre principali destinazioni sono in ordine di preferenza, la montagna, località d'arte, le località termali e del benessere e i laghi. Tra le varie tipologie di soggiorno scelte dagli italiani, l'albergo rimane tra i primi con il 24,5% delle scelte che però diminuisce del 3% rispetto all'anno scorso. Crescono invece i connazionali che trascorrono le vacanze a casa di parenti e amici, i residenzi, i band and breakfast, i campeggi e gli affitti di appartamenti. In diminuzione invece sono gli italiani che decidono di trascorrere le proprie vacanze nella seconda casa di proprietà. E dopo il successo ottenuto lo scorso anno, torna quest'anno la seconda edizione di un evento che ripercorre la storia delle migrazioni del nostro territorio e che lega particolarmente la nostra terra con il Sud America, in particolare Uruguay e Argentina. Fabio Ragone da diversi anni è impegnato in un progetto che vuole regalare alla memoria anche delle giovani generazioni i percorsi di chi ci ha preceduto. Questa mattina la presentazione dell'evento che si terrà a partire dal prossimo 10 agosto a Tegiano per concludersi il giorno 15 con una serie di appuntamenti che si apriranno con il convegno in programma il giorno 10 dove si parlerà proprio della migrazione in Argentina e in Uruguay. Il tutto arricchito è spiegato anche attraverso una mostra fotografica. Presso la Santissima Pietà di Tegiano si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione di questo evento e noi abbiamo raccolto le interviste realizzate a Fabio Ragone, presidente dell'associazione Thanos, a Vito Antonio Cobucci, consigliere comunale, Antonio Improta e Anna Maria Improta. Oggi presentiamo la seconda edizione della manifestazione Thanos, memoria di migrazioni tra fede e tradizioni e quest'anno c'è una particolarità. Mentre l'anno scorso abbiamo ricevuto 39 discendenti di emigranti campano-lucani e devoti di San Cono provenienti da Argentina-Uruguay, quest'anno riceviamo una delegazione ufficiale istituzionale proveniente dalla cittadina di Florida. Ricordo che la città di Florida dal 2011 è gemellata con il comune di Tegiano e per questa occasione riceveremo il sindaco di Florida e i presidenti delle due commissioni di San Cono. Nel corso di questa manifestazione riusciremo anche a chiudere in qualche modo definitivamente il discorso sul progetto crowdfunding realizzato un anno fa. Infatti siamo riusciti a preparare con le foto che adesso dovranno essere restituite a tutte le persone che hanno partecipato al progetto realizzeremo una mostra fotografica che in qualche modo arricchirà l'evento appena presentato. C'è un gemellaggio di qualche anno fa che è stato rafforzato da questa amministrazione ospitando appunto il sindaco di Florida ricevendolo qui a Tegiano e posso già anticiparvi che magari parteciperà anche al corteo storico di quella che è la rievocazione medievale alla tavola della principessa Costanza. Quindi oggi in pratica si rafforza ancora di più quel legame con una comunità che è a chilometri di distanza. Quindi si rafforza questo legame. Grazie a Fabio per tutto il lavoro che ha svolto, per tutta la ricerca, per tutto quello che ha fatto e noi come amministrazione sicuramente gli diciamo grazie e lo sosteniamo appunto in tutto quello che è la sua attività con l'associazione Thanos. L'associazione Thanos nasce da un progetto del dottore Ragone che vuole recuperare le radici del Vallo di Diano attraverso un recupero che si fa fuori dal Vallo di Diano. Ecco mi si scusi questo gioco di parole. Cioè andando a studiare quei flussi migratori che sono partiti ahimè dopo l'unità d'Italia e sono poi proseguiti fino a dopo la seconda guerra mondiale soprattutto in Argentina e Uruguay per adesso. Questo progetto è vero abbiamo pensato di trasformarlo e di dare un contenitore a questo progetto attraverso la costituzione di un'associazione. Io mi sono associata a questa ricerca perché mi sembrava molto in linea con gli studi sull'alimentazione già che l'alimentazione crea identità culturale e in effetti nel lavoro che abbiamo svolto insieme io mi sono occupata essenzialmente di valorizzare la cultura locale ma in qualche modo di fare anche un lavoro sull'identità e l'appartenenza del soggetto emigrato. Andiamo a Sassano in particolare a Cagliazzano la comunità è in festa per la ricorrenza dedicata a San Gaetano oggi e domani un programma ricco di eventi religiosi ma anche ludici e tanto spettacolo la due giorni di festa si concluderà domani con il concerto di Orietta Berti. Al via oggi festeggiamenti in onore di San Gaetano in località Cagliazzano di Sassano due serate di festa e musica ma soprattutto religiosità intorno alla figura del santo che vissuto negli anni tra il 1400 e il 1500 e ordinato sacerdote nel 1516 raccontò che durante la celebrazione della sua prima messa a Natale di quell'anno gli apparve la Madonna che gli pose tra le braccia il bambino Gesù. Località Cagliazzano negli anni addietro rientrava nella parrocchia del cuore immacolato di Maria ormai da diversi anni ha una sua parrocchia dedicata proprio al santo e in occasione della festa ogni anno viene rievocato il momento in cui San Gaetano incontra la madre di Dio che gli affida tra le braccia il bambino attraverso la processione che vede tutta la comunità di Cagliazzano stringersi vicino all'immagine di San Gaetano e della Madonna del cuore immacolato di Maria. San Gaetano è tra le figure dei santi particolarmente amate nel sud Italia pur essendo nato da una nobile famiglia veneta è particolarmente amato soprattutto dai napoletani che tutt'oggi ne conserva la devozione per il suo particolare attaccamento alla comunità religiosa del luogo. San Gaetano morì a Napoli infatti nel 1547 nel periodo in cui il popolo napoletano era in rivolta per ribellarsi al tribunale dell'inquisizione. Si racconta che Gaetano, provato dal triste momento che vedeva tantissimi napoletani perdere la vita decise di offrire la propria vita a Dio pur di riportare la pace. Dopo due mesi dalla sua morte giunse la pace tanto attesa. A Cagliazzano di Sassano la festività in onore di San Gaetano è vissuta con particolare devozione e forte attaccamento. Ogni anno, il 6 e 7 agosto, la comunità si riunisce intorno alla figura del santo con tutta una serie di eventi, in particolare religiosi, che vedono la statua del santo percorrere le vie della località tra una moltitudine di persone per poi ritrovarsi in entrambe le serate con momenti di feste e di spettacolo. Quest'anno il cartellone di eventi civili è particolarmente ricco. Si parte già da questa sera con un evento dedicato alle giovani voci del territorio. Il Comitato Feste San Giacomo, infatti insieme al parroco Don Carmine Tropiano, hanno deciso di dedicare la serata della vigilia della festa alle giovani promesse del canto, al fine anche di far sì che la festività rappresenti un modo per promuovere le eccellenze artistiche locali. Questa sera, sul palcoscenico allestito per l'occasione, saleranno i giovani del gruppo Noi Ragazzi della Montepruno, che proseguono nel loro tour su tutto il territorio in cui opera la Banca Montepruno per farsi conoscere e per far sì che sia trasmesso a tutti l'orgoglio delle eccellenti capacità che questo territorio è in grado di offrire. Domani 7 agosto i festeggiamenti in onore di San Gaetano si chiuderanno con il gran concerto di Oretta Berti, con il suo tour nonostante tutto 45 anni di musica. La cantante, dal 1964, continua ad affascinare e ad essere particolarmente apprezzata non soltanto per la sua voce, che negli anni risulta ancora essere di grande spessore e di grande valore, ma anche per il suo sorriso e per la sua giovialità contagiosi. Il concerto di Oretta Berti, con il quale saranno raccontati 45 anni di musica italiana, avrà inizio alle ore 21.30 in località Cagliazzano di Sassano. E questa sera, ultimo appuntamento, prima della pausa estiva, del programma Angolo Cusati, il format ideato e condotto da Pietro Cusati, che avrà come ospite il giornalista di ICN New York, Tony Pasquale, originario di Monte San Giacomo, speaker radiofonico. In compagnia di Tony Pasquale, Pietro Cusati parlerà proprio di Radio ICN, che è la radio italiana di maggior successo a New York e che trasmette 24 ore su 24. Radio ICN, nell'arco dei 30 anni di esistenza, ha fornito diverse informazioni, anche fino allo sport, con un programma chiamato Ciao Tony e condotto da Tony Pasquale. Quindi l'appuntamento è per l'Angolo Cusati, in programma questa sera al termine del nostro TG. Con questa notizia chiudiamo la prima parte della nostra informazione pomeridiana, ci vediamo dopo la pubblicità per la seconda parte. Seconda parte dell'edizione pomeridiana delle Uno News, andiamo a Teggiano, questa mattina presso il convento della Santissima Pietà, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della 22esima edizione della manifestazione medievale alla tavola della Principessa Costanza. Tantissime novità con la più attesa riproposizione dello spettacolo che rievoca l'assedio al castello, realizzato con la regia di Massimo Cinque e il contributo della Banca Bontepruno. L'evento, come ormai di consuetudine, si terrà nei giorni 11, 12 e 13 agosto e farà rivivere i fasti del Medioevo nel centro storico cittadino. Per l'occasione sarà possibile visitare i musei e le antichissime chiese di cui Teggiano è particolarmente ricca. Ascoltiamo le interviste realizzate questa mattina a margine della conferenza stampa da Pietro Cusati. Ritorno alla magia di Costanza con la 22esima edizione. Sono ben 22 anni che questa associazione della Prologo propone questo grandissimo spettacolo che è la tavola della Principessa Costanza. Si cercherà ancora una volta di mantenere gli standard di qualità che sono stati garantiti nelle edizioni precedenti. Naturalmente l'itinerario sarà interessato da spettacoli sempre più stupefacenti e quindi tutta una serie di animazione naturalmente di matrice medievale e quindi trombonieri, sbandieratori, tamburrini, il grande corteo storico di circa 500, prestigioso corteo storico con costumi preziosissimi di circa 500 figuranti, musici medievali, danze, combattimenti, gli antichi mestieri, il mercato medievale. Quindi tutto una serie di attività veramente che riporteranno il paese nella magia del Medioevo. E poi come c'è la grande novità, ma più di novità possiamo parlare di grande ritorno, dell'assalto al castello, al castello Macchiaroli. Anche quest'anno si rinnova la favola della Principessa e noi tutti ci emozioniamo ancora di più come ogni anno. Si rinnova l'entusiasmo, si rinnova l'emozione e con l'avvio della festa, con la conferenza stampa, dentro di me e credo dentro tutti noi si assiste ad un crogiolo di sensazioni diverse, di emozioni diverse perché la tavola della Principessa Costanza non è una manifestazione soltanto di cultura, di storia, di arte, di un percorso gastronomico, ma è una favola vera e propria. Infatti il mio invito a partecipare alla manifestazione si estende, si qualifica come invito ad emozionarsi, come invito a vivere una favola, ad abbandonare la quotidianità per qualche giorno e avvarcare un'altra dimensione. Sì, collaborazione rinnovata con la Proloco, con l'intero Comune di Teggiano per rafforzare, rendere sempre più interessante la manifestazione alla tavola della Principessa Costanza e siamo presenti anche quest'anno con un forte apporto emotivo, oltre che economico, per rendere la manifestazione sempre più bella per tutti coloro che la visiteranno. Ma questa è una festa straordinaria e credo che il suo successo risieda oltre che naturalmente nell'azione propositiva della Proloco, ma soprattutto in questo coinvolgimento dell'intero Paese, perché tutti sanno che, insomma, oltre che i figuranti, ma anche chi sta nelle taverne, sono persone che non vengono pagate, tutto affidato al volontariato, al desiderio di essere utili in questa festa al Paese e di proporre a quelli che vengono a visitare in queste chermesse di tre giorni il nostro centro storico, dei piatti succulenti, dei piatti tipici della nostra tradizione culinaria. Quest'anno poi c'è un gradito ritorno, che è quello dell'assalto al castello, fortemente voluto da uno dei nostri sponsor ufficiali, che è la Banca Mondepruno di Roscini e Laurina. Laurino, il direttore Michele Albanesi, ha da sempre creduto nelle potenzialità di questo centro storico. La Principessa Costanza è un fiore all'occhiello di questo posto, direi non soltanto di Teggiano, ma dell'intero comprensione del Valo di Diano, che, insomma, unito a tante altre manifestazioni, possono, come dire, rendere appetibile questo territorio e valorizzarlo, insomma, farlo conoscere. È importante fare rete, fare sistema, cercare di coordinare tutte e quante le nostre manifestazioni, perché è importante che la promozione di tutto il territorio sia fatta insieme, senza localismi. E sarà il colonnello Riccardo Piermarini, comandante provinciale dell'Arma dei Corabinieri, a consegnare il premio internazionale a ambasciatore di amicizia tra i popoli Felice Bonomo, a Sanza, domenica 9 agosto alle 19, al giornalista Rai, Nico Piro, e al colonnello Angelo Marizia, comandante del reggimento guide XIX di Salerno. Domenica 9 agosto, in Piazza San Martino, alla 19, sarà consegnato il premio internazionale ambasciatore amicizia tra i popoli Felice Bonomo, al giornalista Rai, Nico Piro, e al colonnello Angelo Malizia, comandante del reggimento guide XIX di Salerno. A consegnare il premio, il colonnello Riccardo Piermarini, comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, dal CLATGAU, regione della Germania, giungerà intanto una delegazione di cittadini tedeschi, composta da amministratori locali, dirigenti scolastici, studenti ed imprenditori, per presenziare alla consegna del prestigioso premio, giunto quest'anno alla sua nona edizione. La manifestazione, inserita nel programma di scambi culturali, promossa dal Comitato di Gemellaggi del Comune di Sanza, per questa edizione ha inteso conferire a due personalità di altissimo profilo per il ruolo professionale ed umano svolto in contesti delicati del mondo. Nico Piro, inviato Rai nei teatri operativi e contesti bellici per il suo prezioso lavoro svolto alla fine di raccontare le atrocità delle guerre, la necessità e il valore della pace. al colonnello Angelo Malizia, comandante del reggimento guide XIX di Salerno, da poco rientrato insieme ai suoi 400 militari dalla missione Leonte in Libano, per la grande capacità operativa dimostrata nel delicato ruolo di caschi blu dell'ONU sul confine tra Libano ed Israele. La consegna del premio sarà preceduta da una tavola rotonda sul tema Europa tra economia ed emergenze umanitarie, quale futuro moderata dal giornalista Lorenzo Peluso, dove interverranno sul tema oltre al giornalista Rai Nico Piro e al colonnello Angelo Malizia, comandante del reggimento guide XIX, il colonnello Riccardo Piermarini, comandante provinciale dei Carabinieri, il capitano dei Carabinieri Emanuele Tamorri, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sapri, Don Claudio Mancusi, cappellano militare e capo Interforze Salerno. Ad aprire la serata i saluti del sindaco di Sanza, Francesco De Mieri, del sindaco del CLAT, Gaofolker Jungmann e Sabino Bonomo, in rappresentanza della famiglia Bonomo. E domani sera a Polla si terrà un importante incontro sulla figura di Vincenzo Giordano sul suo periodo del sindacato. L'evento promosso dall'associazione autorevole Vallo di Diano di Carmelo Bufano vedrà la presentazione anche del libro dedicato proprio alla figura di Giordano. Domani pomeriggio a Polla, alle ore 19 nel piazzale Antistan del Discount MD, in via della Lana, si terrà un incontro organizzato dall'associazione autorevole Vallo di Diano di Carmelo Bufano per una riflessione politica sul periodo del sindacato di Vincenzo Giordano, deceduto nell'aprile del 2009. A prendere parte alle vendo il sindaco di Polla, Rocco Giuliano, Dino Verrone, segretario provinciale della Federazione Giovanile Socialista, Francesco Cavallone, sindaco di Sala Consilina e il consigliere regionale Enzo Maraio come rappresentanza dell'ufficio di Presidenza. All'evento sarà presentato anche il libro di Vincenzo Giordano da Sitting Bull a sindaco di Salerno, redatto dal giornalista Aldo Bianchini. I lavori saranno coordinati dall'avvocato Sebastiano Tanzola con la collaborazione della giovane studentessa universitaria Teresa Venosa che leggerà alcuni brani scelti dal libro. All'incontro prenderà parte anche Carmelo Bufano, promotore e ispiratore dell'evento e primo firmatario della proposta referendaria per l'unificazione dei comuni del Vallo di Diano. Gli stacchetti musicali saranno curati da Giovanni Di Donato. L'appuntamento è dunque per domani a partire dalle ore 19. Torna anche quest'anno il Polla Festa Country. La manifestazione è giunta alla terza edizione. Si terrà all'8 e il 9 agosto ed è stata organizzata dall'associazione I Nicolini Padre Damasceno e farà rivivere a Polla la tipica atmosfera del West. Per questa terza edizione è prevista anche la presenza di un grande ospite. Infatti giungerà alla Festa Country l'attore Terence Hill. Sabato 8 e domenica 9 agosto torna a Polla con la terza edizione la manifestazione dedicata al Western. L'associazione Nicolini Padre Damasceno organizza Festa Country che farà rivivere per le strade comunali la tipica atmosfera del West con strade allestite e scenari tipici. Nel corso delle due serate gli organizzatori hanno previsto tutta una serie di attività correlate portando a Polla anche il ranch di cavalli con la possibilità di montarli il classico rodeo con il vitello e il lancio del Lazio oltre al villaggio indiano. Una serie di attività che saranno in grado di allietare le serate di grandi e piccoli ospiti nella città West dove sarà presente anche il toro meccanico e ancora giochi Western Laboratori Country e tanti gonfiabili. Le serate saranno arricchite anche dalla degustazione di specialità tipiche come ad esempio il famoso vitello intero cotto alla brace. Nelle prime due edizioni l'evento si è svolto soltanto in una giornata. Quest'anno i membri dell'associazione Nicolini Padre Damasceno hanno deciso di prolungare l'iniziativa vista anche la grande affluenza registratasi nelle passate edizioni e il notevole consenso ottenuto. Inoltre l'edizione 2015 sarà anche arricchita da un ospite d'eccezione che di film West ne ha girati tantissimi. A Polla arriverà per la festa country Mario Girotti meglio conosciuto con il nome di Terence Hill predisposto inoltre un servizio navetta per raggiungere la città West che vedrà anche la presenza di un pullman di turisti francesi. E adesso lo sport domenica in programma il primo match ufficiale della stagione per la Salernitana di mister Torrente intanto arrivano novità dal mercato fatta per il difensore e il centrocampista Schiavi e Schaudone si tratta un attaccante e si sogna il regista Francesco Lodi. Prosegue la marcia di avvicinamento alla gara di Coppa Italia per la Salernitana in programma domenica contro il Pisa mister Torrente alle prese con un dubbio di modulo da schierare per la prima gara ufficiale della stagione il 4-3-3 oppure il 4-2-3-1 tutto dipenderà dall'impiego di Omeno di Khalil che nonostante le parole di queste settimane resta sempre nei pensieri di molte squadre di Lega Pro in particolare della Foggia pronto ad alzare l'offerta per il bomber brasiliano non solo i rossoneri ma anche il Vicenza sta osservando la situazione ed è interessata al ragazzo sul fronte interno invece visite mediche ok per Troianiello che così ha raggiunto il resto della comitiva nel ritiro di Cascia mentre il DS Fabiani ha praticamente chiuso l'accordo con Schiavi e Sciaudone rispettivamente difensore e centrocampista che dopo aver risolto il contratto con il Catania hanno acciottato l'offerta Granata dal Catania potrebbe arrivare anche un altro attaccante Maniero che deve però risolvere con gli etnei alcune situazioni contrattuali e poi potrà decidere se accettare la corte di Fabiani oppure trovare altre strade Pescara o Latina a centrocampo il sogno della coppia Lotito Mezzaroma e Francesco Lodi il talentuoso centrocampista con oltre 150 presenze in Serie A e circa 200 in B un regista che complederebbe la rosa e sarebbe il vero colpo di mercato Granata il ragazzo è stato chiaro con Fabiani si tratta se entro 10 giorni non si chiude la trattativa per il suo passaggio al Frosinone sulle sue tracce ci sono però anche Empoli e Carpi con il Vicenza si lavora lo scambio gentile tra i Visan mentre con il Lecce alla trade Castiglia Dumbià infine restano da piazzare gli esuberi Bocchetti Perrulli mentre Liverani potrebbe finire alla Paganese con lo sport si chiude questa edizione pomeridiana delle Uno News vi ricordo che tutti gli approfondimenti sono disponibili anche sul nostro sito internet www.unotvweb.it mentre l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle 19.45 con l'edizione serale io intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti